Ciao ragazzi siamo tornati, mi avete chiesto dei tutorial per la nostra Total Body Crunch utilizzando questo macchinario che usa il tuo stesso peso corporeo per allenarvi. Abbiamo la nostra sedile che è regolabile, può scivolare avanti e indietro per la lunghezza delle leve. Quando stiamo a stoppera ci mettiamo i piedi sui pedali e questa è un assetto facilitato. E' molto più facile partire da questo Total Crunch di quella della versione precedente perché abbiamo questa asticella qua sotto che è diciamo una sorta di blocco così non posso scendere di troppo, mi sento sicura se mi trovo diciamo che devo prendere un riposo facilissimo e mi siede in qualsiasi diciamo posizione e lui si blocca. Ok come usiamo il nostro Total Body Crunch? Dobbiamo spingere con le gambe e portare le braccia indietro in contemporanea così doso la forza sia come dalle braccia alle gambe, non dico 50-50 ma sicuramente uno 60-40, vogliamo dire così. La cosa bella del nostro Total Body Crunch è un avvogatore verticale. Quando tu vai a fare la voga di solito sei seduto e vai avanti indietro, no? Scivolando e tirando ma quello mette anche magari sotto troppo torchio i lombi che molte persone magari non hanno quella forza sui lombi invece qui io riesco a utilizzare i dorsali portando i gomiti indietro e chiudendo i gomiti indietro mentre spingo con le gambe insieme stiamo parlando di un lavoro veramente Total Body. La cosa bella di questo attrezzo è che bastano quei 7-10 minuti al giorno per iniziare ovviamente se tu sei uno super sportivo potresti tranquillamente fare di più 20-30 minuti senza battere il ciglio ma se siete alle prime armi, come molti di voi siete alle prime armi volete tornare in forma, non sapete da dove partire possiamo partire con 10 minuti, ok? piccolo tutorial, cominciamo con 10 minuti e andremo a lavorare cosce, glutei, braccia, tricipiti e dorsali tiro e scendo, tiro, chiudo i gomiti e scendo l'altra cosa è adesso per un minuto, per un minuto andremo proprio a portare i gomiti indietro chiudo e torno giù, schiaccio e torno giù e faccio alla fine questa contrazione su o sotto le scapole per sentire proprio il lavoro sui dorsali chiudo e scendo chiudo e scendo, guardo sul mio computer di bordo ecco, voglio qua abbiamo ancora circa 40 secondi minuto proprio concentrando il lavoro sui dorsali vai chiudo, scendo, chiudo, scendo ovviamente le gambe spingono ma io sto provando di dare più attenzione sulle braccia e sulla schiena in questo momento continuo, schiaccio, scendo, schiaccio, scendo e la cosa bella è che andremo proprio ad andare a asciugare avete presente il ciccetta che ti spunto fuori il reggiseno sulla schiena e dice no ma porca paletta io dico porca paletta quando la vedo quando vai magari a fare una prova di un vestito sai il gioco delle tre specchi ti vedi la schiena, vedi quella lassità ok, abbiamo fatto il minuto, eccellente prossimo minuto gambe spingo con le gambe e quando arrivo su provo di fare anche un lievo contrazione dei glutei ok su contrai su contrai continuo a lavorare vai la facciamo per un minuto in questa maniera possiamo passare da un lavoro più per le gambe uno più per le braccia noterete che non sto più accentuando il lavoro dei gomiti dietro la schiena e lo facciamo ancora circa 30 secondi spingo con le gambe e schiaccio con i taloni e schiaccio con i glutei quando salgo così facciamo il nostro bel lavoro di tot body crunch insieme me l'avete chiesto io ascolto le vostre domande mi butto diciamo mi butto al lavoro diciamo andiamo a girare questi questi allenamenti per i nostri amici a casa che vogliono avere giustamente il tutorial giustamente l'allenamento da affiancarsi ok abbiamo fatto il minuto adesso facciamo insieme gomiti e gambe boom scendo vado a spingere con le gambe chiudere con i gomiti indietro leggermente più intenso questo lavoro sempre per un minuto vedi fai un minuto fai un minuto fai un minuto e vai a fare dei circuiti così in due dieci minuti passano un battibaleno e hai portato un lavoro a casa scendo l'altra cosa che mi piace del tot body crunch è un allenatore cardio ok ci aiuta arrivare anche in un contesto cardio al di sotto della soglia di 100 euro perché di solito vedi una bici 199 euro vedi anche un trampolino costa tantissimo ma il nostro tot body crunch ci permette di avere un attrezzo genico a casa per fare quello che io chiedo chiamo pedalamento perché le dico pedalamento ok siamo un minuto ok ritorniamo primo minuto gomiti comincio a sentire la schiena che si sta attivando ah ok spingo meno con le gambe tiro più con le braccia minuto poi facciamo minuto di gambe poi minuto tutti insieme la facciamo tre circuiti per fare nove minuti di lavoro e sarà un bel allenamento c'è il computer di bordo di fronte a voi per controllare magari dice un giorno che non hai il video non volete accendere il video della Jill lo fate da soli questo piccolo circuito perché così il tempo passa prima passa più in fretta ok quando dico un attrezzo per pedalare che significa si chiama attrezzi cardio fitness perché fai caso che ti svegli la mattina e non hai voglia di allenarti succede arriva alla fine della giornata e non hai voglia di allenarti allora fare il corpo libero in quel caso non dico che è impossibile ma sicuramente sarebbe diciamo ardua come un'impresa ok gambe vai schiaccia il gluteo scendo schiaccia il gluteo scendo schiaccia il gluteo scendo e schiaccia ok c'è il mio microfono e questa quando noi facciamo un attrezzo che è cardio che può essere total body crunch bicicletta ellittica camminatore o come voi chiamate la mia trampolina la salta salta cioè tu cominci sali sopra e fai dieci minuti pedalando o ovviamente facendo quell'attrezzo genico e poi porterai un risultato a casa ok non devi essere un risultato alla ricerca di diventare big gym o big gil non è la ricerca di andare a diventare culturista è risultato diventare costanti la costanza porterà sempre i risultati e avere un attrezzo genico come la total body crunch di fronte televisore quando sei stanco torni e dici va bene guardo non lo so la mia telefilm preferita mi metto a portare a casa un piccolo risultato ok secondo minuto andato terzo minuto gambe e spalle insieme questo è quello lo scatto più impegnativo più intenso posso andare più veloce o meno veloce dipende come meglio mi sento e in pratica che cosa stai facendo tu stai sollevando il tuo peso corporeo ma senza mettere nessun impatto sulle caviglie sulle ginocchia su le anche sulla schiena e ci permette di avere un risultato io sto sentendo tantissime le braccia tantissime le braccia ma penso che le braccia ben definite su una donna sono bellissima da vedere perché qual è la prima parte veramente dal corpo femminile che vedi senza veli le braccia oh quando mettiamo magari la canottiera o quando mettiamo qualche cosa con le spalline e noi se ci alleniamo bene le braccia ok terzo circuito solo le braccia un minuto solo gambe un minuto insieme un minuto e il nostro mini allenamento di circa dieci minuti sarà finito ok tre circuiti da tre minuti un po' di riscaldamento e poi un po' di cool down alla fine facciamo un po' di faticamento pedalando spingendo usiamo quei gomiti porti il petto in avanti e i gomiti indietro clavicoli che si allargono scapole che si chiudono gomiti che si stringono ancora 30 secondi per questo primo scatto e cominciamo a concludere il nostro allenamento total body insieme io sto sudando ok perché è completo ok io sto ovviamente sollevando il peso del mio corpo ma il mio corpo è anche abituato a fare tutto ciò ok se ti comincia a sentire troppo stanchesti sulle braccia spingati un po' più con le gambe ti dà una piccola mano è molto importante mettere insieme la coordinazione che è solo gambe gambe scendo le braccia rimangono lì per darti la leva ok perché hai bisogno di avere un minimo di convolgimento delle braccia ma schiacci glutei scendi schiacci glutei scendi schiacci scendi concentrando sulla spinta dei talloni spinta dei talloni glutei in avanti stai sollevando il tuo corpo ma sentirete la schiena libera una volgatura normale potrebbe mettere la schiena o faticare di più la schiena perché devi proprio allungarti di fronte e dai un colpo anche non solo con le gambe ma magari all'altezza dei reni invece qui siamo seduti una bella postura ci permette di convolgere la schiena in modo secondo me ben tollerato da tutti che ci darà risultati ancora 5 secondi e poi dobbiamo fare l'ultimo scatto vai ragazzi un minuto gambe braccia insieme dammi il tutto dammi tutto la vostra forza vedi che bastano 7-10 minuti per sentire il lavoro uno dice però sì però porca palletta sento l'allenamento è quello che voglio voglio che sentite il lavoro voglio che diventate molto costanti e quando ho un attrezzo genico che mi permetto di pedalare in questo caso vogare io mi posso portare almeno 10 minuti a casa ogni giorno e non mi potete dire che non avete 10 minuti che non ci credo puntate la vostra sveglia magari 10 minuti prima rotali fuori dal letto prendi una bella diciamo sversata di forza di volontà un caffè e porti 10 minuti poi fai la doccia sai come cambi vita sai come esci di casa felice con te stesso ok bravi adesso vai stretcia un attimo lascia che ti stretci contro il manubrio senti come senti le braccia magari più da una parte destra poi sinistra uff uff siediti proprio siediti giù vedi liberate le braccia mi hanno fatto un mini circuito ragazzi io sono contenta di aver fatto total body crunch con voi come mi avete chiesto i tutorial mi sono messo in opera per soddisfare le vostre richieste e vi aspetto sempre sul mio canale youtube con tutorial con webinar con tutti diciamo anche live shopping facciamo un po' di tutto sul mio canale per tenervi nel mio mondo il mondo di Jill Cooper dedicato a benessere attraverso lo sport attraverso la positività e ovviamente buona nutrizione e integrazione baci dalla Jill e vi aspetto nel prossimo allenamento insieme vieni a scoprire il mio mondo su Jill Cooper punto it